La sua cultura di buoni sinistra, che allora hanno avuto le biblioteche pubbliche e dovrebbe essere un centro di democrazia e di uguaglianza? Per me personalmente è moltissimo, l'ho frequentato da utente e anche da amministratore locale, l'ho sempre promosso. Io penso addirittura una cosa, che sarebbe bello vederle associate in strutture nelle quali magari ci siano anche questi centri per l'impiego che non ci sono più, all'anglosassone, dei posti dove le persone possono andare a studiare, possano cogliere le occasioni di lavoro, possono acculturarsi, insomma sono delle naturali sedi della socialità e dell'uguaglianza delle biblioteche. Quindi pensa anche che la politica dovrebbe fare qualcosa in più per finanziare? Poi sappiamo che le province, è tutto collegato a questo disastro della riforma delle province però certamente sì, tra l'altro il peso e il costo delle biblioteche rispetto a tanti altri è veramente risibile, quindi non mi pare che sia un problema di stabilità, mettiamolo in questi termini. Riguardo agli ebook, lei cosa pensa? Dovrebbero essere inseriti nelle biblioteche? Sì, anche se io sono un po' affezionato ai vecchi libri, ma faccio uso di ebook, soprattutto quando è difficile reperirli i libri, per cui a maggior ragione le biblioteche devono dare entrambe le cose a disposizione. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie a voi.